Musica Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli quest'oggi vi parleremo del Natale vi offriremo magari tra poco qualche idea, qualche spunto perché no, se siete ancora in ritardo con i regali parleremo di libri di moda e di romanzi, di grandi classici della letteratura dopo però non ci lasciate perché usciremo dal nostro studio vi porteremo aggrandate precisamente all'Iper sempre per rimanere in tema festività e darvi qualche consiglio per quanto riguarda la vostra tavola vi ricordo la nostra mail angoli-espansionetv.it mi raccomando utilizzatela come sempre per comunicare con noi Ora iniziamo, do il benvenuto a Marta Elena Casanova giornalista, blogger, conduttrice radiofonica adesso anche scrittrice non bastava tutta la pagina per definire tutto quello che fai Buonasera, grazie a te Dunque abbiamo detto oggi qui in veste di scrittrice perché sei qui per presentarci il tuo libro che si intitola Che libro mi metto oggi? Esatto Edito da Woods Editrice bibliografica e libri di Woods Da dove nasce quest'idea? E ora magari spieghiamo qual è la particolarità di questo libro L'idea in realtà è nata dall'editore mi hanno proposto questo libro sapendo che comunque io in passato ho lavorato in redazioni di moda di settimanali e mensili femminili quindi mi sono occupata proprio di moda adesso questo lavoro non lo faccio più nello specifico mi occupo più che altro di libri in radio e quindi mi hanno proposto di mettere insieme questi due aspetti queste due passioni poi per me quindi è stata anche una grande fortuna una fortuna lavorare su queste due passioni che sono appunto i libri alla moda Che libro mi metto oggi? mette insieme i grandi classici o anche alcuni libri in realtà recenti e la moda ovvero i libri che hanno in qualche modo influenzato la moda delle passerelle ma anche il fatto che gli stessi personaggi dei libri siano caratterizzati molto spesso da quello che poi indossano cioè se non ci fossero le descrizioni dei loro autori probabilmente non verrebbero fuori nello stesso modo ecco l'esempio più lampante che poi è anche quello più conosciuto grazie alla trasposizione cinematografica è quello di colazione da Tiffany per cui tutti in mente abbiamo in particolar modo Audrey Hepburn con il classico tubino nero e la colana di perle però in realtà già nel romanzo al di là di Audrey Hepburn la descrizione era particolarmente chiara era particolarmente chiara esattamente riportato riportato in maniera proprio inicipibile sul grande schermo quello sì, effettivamente è stato il primo che mi è venuto in mente ma a dire la verità quando ho parlato con amici, colleghe eccetera ho detto mi hanno proposto questo tema e mi hanno detto bello, colazione da Tiffany sì, e poi? poi c'è stato il buio che effettivamente insieme al grande Gatsby probabilmente è quello che salta subito all'occhio, alla memoria invece no, invece ci sono tantissimi libri che parlano della moda e ci sono proprio delle parti dei libri, delle descrizioni che sono incredibili qual è il tuo preferito in questo caso in quest'ambito per cui il tuo libro che non al di là chiaramente della storia per cui non ti chiedo il libro preferito in assoluto ma per quanto riguarda la moda ma di sicuro beh, il colazione da Tiffany è quello che come abbiamo già detto ha delle descrizioni molto particolareggiate un altro che mi piace molto è l'amante in cui c'è questa moda fatta di vestiti molto ampi molto leggeri ma soprattutto c'è il cappello il cappello da uomo che io trovo bellissimo molto affascinante molto elegante sensuale anche come oggetto se vogliamo quindi mi piace molto la cosa che poi viene subito in mente almeno per me è stato così leggendo proprio già subito le prime pagine è il fatto che comunque nonostante tu parli di diversi libri ambientati chiaramente in epoche differenti per cui pensando a Grande Gatsby vengono subito in mente gli anni 20 colazioni da Tiffany un altro periodo Jane Austen un altro ancora tutto sommato comunque viene sempre in mente il fatto che la moda poi gira sempre per cui determinati ambiti determinati vestiti sono poi attuali comunque lo abbiamo visto molto attuali subito l'anno scorso esatto nella moda veramente ormai tutto torna è una cosa impressionante infatti io nel libro comunque dico che non bisognerebbe mai disfarsi in toto dell'armadio della nonna e della mamma perché che ne dicano i fidanzati che vorrebbero sempre che facessimo così anzi se c'è una cosa che a me dà molta soddisfazione è fare shopping come dico io nell'armadio di mia madre perché ogni tanto ripescono i pezzi che lei non mette più esatto io recupero camicette di seta da mia nonna che sono una meraviglia e quindi è vero tutto torna io non faccio altro che guardarmi in giro e nelle vetrine dei negozi trovare pezzi che penso comunque nel mio libro quindi mi viene anche da sorridere la moda dandy per esempio quindi la scarpa un po' maschile oppure le scarpette rosse del mago di Oz insomma ci sono tantissime cose che l'accessorio bio di abbigliamento che tornano in continuazione ecco ci sono soprattutto tanti spunti la bellezza la particolarità di questo libro secondo me è questa che ci sono tanti spunti per cui bien voglia perché non l'avesse già fatto di leggere i libri che tu riporti proprio in in questo tuo libro e dall'altra parte ci sono degli spunti proprio per quanto riguarda la moda per costruirsi anche un proprio stile che non necessariamente deve essere unico univoco no no infatti quello che io dico in questo libro ovviamente in maniera la mia visione soggettiva con la moda bisogna giocare secondo me divertirsi mi piace moltissimo la moda ovviamente però non mi piace uno stesso stile cioè poi in realtà una persona se ha uno stile è quello è riconoscibile ma comunque cambiare no? a seconda anche dell'appuntamento che si ha della giornata di come ci si sveglia perché no quindi è bello anche variare il look e provare a giocare proprio è bello sapere che magari per una festa ci si può vestire un po' alla grande Gatsby quindi stile anni 20 mentre per per l'ufficio per altre occasioni più formali cioè il classico dubbino nero di colazione da Tiffany che fa sempre bene è proprio questo lo scopo magari del libro è proprio questo sì questo insieme al fatto di consigliare comunque sia il look che il libro quindi cioè trovare determinate storie anche e determinati autori che possono calzarci esattamente come un abito in maniera perfetta ecco per questo io l'ho inserito un po' l'ho introdotto come consiglio natalizio perché effettivamente è un piccolo manuale possiamo dire così per quanto riguarda i consigli di lettura e soprattutto per quanto riguarda anche qualche consiglio di moda che ci viene poi da grandi autori da grandi scrittori prossimi progetti tu hai sempre per quanto riguarda la scrittura o ti stai dedicando nel frattempo anche ad altro ma per il momento sulla scrittura ho qualche idea ma progetti eri e propri non ancora mi sto concentrando adesso su su che libro mi metto oggi lo porterò un po' in giro e quindi sono più concentrata su questo al momento e poi io ho sempre i miei altri lavori come dicevi tu vari percorsi da tenere in piedi e quindi sulla radio sempre molto lavoro anche lì perché bisogna scovare poi sempre delle novità come ho detto in radio ti occupi sempre di libri di libri e di arte quindi anche mostre in giro per lo più per l'Italia e quindi bisogna scovare qualcosa di interessante per chi volesse seguirti così magari diamo anche questa indicazione oltre al libro sì per chi volesse seguirmi beh io per esempio ho un blog che è sopravvivimilano.it sopravvivi in questo caso è un'accezione positiva perché io non sono di Milano ci vivo da tanti anni ormai ma mi piace consigliare posti cioè trovarli e poi consigliarli ovviamente posti a Milano che sono di tutti i generi cioè realtà commerciali di ogni tipo e quindi questo è sopravvivimilano.it è il blog e poi ci sono i vari social i vari social poi chiaramente abbiamo detto c'è la tua trasmissione radiofonica e radiofonica su Rockeroy Radio ogni lunedì dalle 18 alle 19 bene in ogni caso comunque per avere i suoi consigli di lettura potete anche acquistare che libro mi metto oggi per avere i suoi consigli o per darli a qualcuno per cui potete tranquillamente regalarlo io ti ringrazio per essere stata con noi oggi quindi ringraziamo Marta Elena Casanova autrice di Che libro mi metto oggi grazie ancora per essere stata con noi grazie buona serata noi ci fermiamo solo per pochissimi istanti di pubblicità torniamo tra pochissimo però ci rivedremo da grandate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti